dopo avervi fatto vedere come ho rivestito la mia mini piscina best way con del legno di recupero oggi voglio farvi vedere uno dei due metodi che utilizzo per riscaldarla e per rendere l'acqua piacevole anche fuori stagione in questo caso sto parlando della mini pompa di calore marchio gre per piscine fino a 20 metri cubi di acqua il collegamento è semplicissimo basta collegare il tubo di mandata dell'acqua che esce direttamente dalla pompa e collegare il tubo di uscita che va direttamente alla piscina il display è molto intuitivo ci consente di visualizzare la temperatura dell'aria esterna e la temperatura dell'acqua della piscina ci consente naturalmente di impostare anche la temperatura desiderata dell'acqua perché è conveniente utilizzare una pompa di calore per riscaldare la piscina perché la pompa di calore utilizza un'energia che fondamentalmente è gratuita cioè il calore che è presente nell'aria e grazie a un consumo davvero ridotto e minimo di energia elettrica riesce a trasferirlo nell'acqua della nostra piscina per farvi un esempio concreto questa pompa di calore consuma 500 watt e sviluppa 2 kilowatt e mezzo di potenza termica questo non è l'unico metodo che io utilizzo per scaldare la piscina perché infatti utilizzo anche un impianto solare autocostruito che se vi interessa vi farò vedere nel prossimo video